Un programma di coalizione ampio, quello che Fabio Anselmo, candidato sindaco del centrosinistra, sostenuto da sei liste, quattro di partiti, due civiche, ha illustrato ieri nella saletta di Umbadi San Martino, affidandone a volti nuovi la presentazione. Arianna Poli, lista Anselmo, Tommaso Lanzoni, civici, Marina Contarini, sinistra unita per Anselmo, Deni, Farinelli di azione, Corena Tagagliani del partito repubblicano, Francesco Raitano, dei Cinque Stelle, Valerio Dighier, Alessandro Talmelli per il partito democratico. La presentazione è veloce, parte dai giovani. Anselmo non parla per noi, ma con noi, dice Lanzoni. Mariana Poli rivendica il luogo della città per partecipare alla vita pubblica, dice. Marina Contarini parla di lavoro, turismo di qualità, stato sociale, rilancio del petrolchimico, con un fiero nodo, una città che sceglie come identichid il food street e i mega eventi in musica nel centro città. Danny Farinelli ribadisce la necessità di investire nel piano di sviluppo strategico della zona logistica semplificata. Raitano, Cinque Stelle, si concette sul rispetto e sulla valorizzazione dell'ambiente. Infine, a Valerio Dighier, ad Alessandro Talmelli del PD, il compito di rigucire con il passato del centro-sinistra e di ridare spazio al patto per il lavoro, a costruire comunità con le frazioni, a riaprire le circoscrizioni e a creare la cittadella del volontariato privato della sede con la giunta Fabri. Un programma di neppure 50 pagine, di cui il pubblico chiede una mini sintesi. Per praticità dice dove tutto è di segno opposto alla Ferrari della giunta di Alan Fabri, di cui, precisa Anselmo, non si vede ancora quale programma voglio adottare per la sua ricandidatura. Fra i punti su cui Anselmo è intervenuto, il no ai soldi pubblici dati ai pochi per far divertire i molti, come è accaduto con i 500 mila euro dati da Amsef ad un'impresa di organizzazione eventi, con annesso scandalo dei costi fra i più esosi per la sepoltura incertosa dei deceduti di Bergamo in epoca Covid. Un no che si conferma con sdegno e si ripete di fronte al milione di euro destinato sempre ad eventi pubblici pagati da varie società partecipate dall'amministrazione comunale. Cifre che volano, conclude il candidato sindaco Anselmo, mentre il bilancio di ASP resta sempre fermo sugli stessi numeri. L'elemento centrale sembra essere l'ASP con fronte di una città che ha questo indice di vecchiaia e questa povertà crescente, diciamo, soprattutto nelle zone periferiche. Quindi sull'ASP lei che cosa annuncia e promette? Assolutamente un aumento degli investimenti sull'ASP. Chiaramente l'ASP sta morendo per asfissia. È dal 2019 che ha in bilancio lo stesso introito, senza tenere conto dell'inflazione, senza tenere conto chiaramente del valore del costo del denaro. E anche e soprattutto della funzione dell'ASP che cresce, diciamo, le prestazioni richieste sono sempre in crescita, sempre più complesse e quindi economicamente impegnative. Quello che mi stupisce è che per i prossimi tre anni la cifra è sempre la stessa come se fosse stato fatto un copio in colla. Questa è una cosa che veramente mi sorprende. L'ASP è chiaramente la mano del comune vicino a chi è più debole. Quella mano viene sistematicamente ritratta lasciando i più deboli senza diritti. Quella tecnologia è materiale più sostenibile.